vi invito aia ma per cosa base operativa si arrivo base operativa guarda sono al casino giro la ruota e mi materializzo lì ora vincerò la solita maglietta ecco si dai ma cos'è hai vinto un buono per comprare una coca cola ho vinto un buono pasto da 7 euro un ticket da 5,31 arrivo esatto eccoci qua eccoci qua allora vediamo se riesco a materializzarmi ok mi sto per materializzare da quelle parti eccoci qua vediamo quanti minuti sbucherà cos'è cosa cazzo guarda ma dove siamo eh ma dove siamo siamo nella base operativa ma cos'è sto posto è la base operativa ma dov'è quando ho detto che ho speso dei soldi c'era un motivo quanti ne hai spesi però no ho preso quella che costava meno ah perché ce n'è una ancora più grossa no sono tutte uguali però le puoi personalizzare ho preso quella più in culo ai lupi non costava tantissimo però rispetto alle altre cose no un milione e due ah qui c'è lo spogliatoio vieni vieni portatelo qui giusto dove sei? dove si andava? vi ricordo seguita la H ah sì 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 di qua di qua ok ti segue ah perché ci sono anche le porte che si aprono si scordolo è molto serio poi era lì qua mi segue tipo un chilometro e mezzo sì vabbè è una roba così rossa scusa non eri qua vai no sì sì giusto giusto ah sì giusto 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 di qua giusto di qua giugno ti presento il colpo dell'apocalisse cosa cazzo cosa stracazzo cos'è sta stanza il colpo dell'apocalisse e vorrei sapere esattamente quanto frutta il colpo basta quanto frutta questo colpo dell'apocalisse non ne ho idea però è una roba è una roba divertissima è immagino sia praticamente impossibile allora io una volta ho provato ma me l'ho invitato a farlo sai quando ti ricevi gli inviti a casaccio dalla gente e sono mi sembra 3 milioni paga sì mi sembra di sì viso 4 allora andiamo a rubare le deluxo di nuovo dobbiamo fare quello delle deluxo ok vado vai io faccio dei diti medi ma sti parlo verso di me così in teoria siamo insieme in teoria adesso vediamo e beh cavolo scusami siamo tutti in una stessa eh sì oggi è successo un problema eh sì abbiamo sbagliato il presidente Simo fa partire la roba io dico ma Simo non eravamo tuoi associati ma tanto lo prenderà ugualmente e invece non l'ho fatto invece no ta 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 lui ci ha buttato fuori dal bunker io e lui ma noi ci abbiamo seguito peccato che non potremmo farmi a marazzi ehm date pure che io ho chiesto l'ho presso l'arriverà qui da qualche parte ah allora io ho l'elicottero qui che sale su volerò alto ah hai l'elicottero? allora aspettano vengo sull'elicottero dai andiamo in l'elicottero lascio qua la schifo tanto è facile questa eh eh bisogna fare l'elicottero ah di qua l'elicottero merda ma dovete arrivare qua sulla sinistra basta parlare fate lo smettere per piacere sì è una roba allucinante allora diciamo sta preliminare perché oggi ne abbiamo fatto un'altra Giulio che abbiamo dovuto rubare un'ambulanza ed era una missione perfetta è stata la prima preliminare perché poi mi sono sbagliato volevo rifare questa qui ma ho schiacciato uno sbagliato cioè l'unica volta dove ti deve chiedere la conferma quando fai qualcosa non te la chiede ti fa partire esatto ti fa partire subito c'è che spara Giulio sì allora dobbiamo rubare 4 deluxo che poi diventeranno le deluxo quelle che volano se non se penso penso che sia così la questione però prima bisogna andare a far riverniciare una bella spianata le montagne sono girate questi maledetti rilievi questi paletti maledetti pali se avrete c'è spuglia davanti io arrivo e uccido tutti come oggi e poi è sempre strada merda io sento qualcuno sparare non ti preoccupare madonna e via che si parte ecco la bomba cazzo cazzo eccolo qua forse è una visuale un po' più decente ok perfetto merda sono volato giù da una montagna cazzo cazzo doveva fare vorrà dire che farò una strage a piedi si stanno sparando lo supporto io se riesco a guiagli mi hai pettinato col missile ok mi mancano due tre quelli che sono due uno oh quasi oh basta 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 quello sono io ok con i ragazzi no 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 scendete prendete la macchina guarda lascia mi che mi butto in piscina guarda che ci sono i tizi dentro che mi sparano adesso giulio si è lanciato pensavo fossi a terra ok morti nooo l'ho mancato vado prendo la prima vabbè boh entrate prendete le quattro e andate a modificarle quindi dove andiamo nel garage qualsiasi ma no non ci credo ma ha seccato la lama si? ah la lama dell'elicotteri ah succede sempre anche a me in quale dobbiamo andare di... ah ce lo dice lui ok a posto a posto peccato che non vola ancora eh no però ti dice comunque la schiaccia X si te lo dice infatti anche oggi me lo diceva oh è solo una bugia è una menzogna una menzogna il paradiso è un'astuta bugia eh sto provando ma non lo fa la mia vola raga eh vola? no non devi schiacciare X devi schiacciare triangolo eh no mi esce dalla macchina ah 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 scherzone lo sapevo io anche che ci credo come quando come quando il mio amico che giocavamo a cos'è che era? a Battlefield su computer che fa ragazzi come si apre paracadute e tu ti devi fare alta F4 ottimo ma mi si è chiuso il gioco eh sì è stato bellissimo sai che per un'ora non siamo più riusciti a giocare eravamo piegati da rido chi è che mi sta tamponando in tutti i modi? ero io ecco allora ma no allora ripara veicolo verniciature colore principale facciamo un opaco bianco ghiaccio e di qua e adesso dobbiamo farci 10 km sperando che non arrivi nessuno a romper le palle entro entro fatta un secondo si chiama in punte del ax cosa bisogna fare? fai di verniciare ok si mettetegli un colore a cazzo verniciatura mica se viaggia però sta macchina eh ma dobbiamo portarla indietro tutta intera o possiamo distruggerla? è intera è intera poi scula anche come piace a me si scula è scube intanto ha dei freni degni di nota che frenano dei freni normali non quelle schifezze della curuma che non frenano ma mazza 10 km ma stiamo scherzando è un po' lontano però dai va abbastanza una volta che sei è tutta autostrada poi eh perché ho preso pensate cosa? perché ho preso la base operativa più lontana che c'è perché costava poco ero povero pensate se veramente la mappa di GTA 6 fosse grande come tutta questa più più tutta quella come dicono di Red Dead Redemption 2 no madonna dai minchia vuol dire che se non ti spediscono dici che non ti spediscono a 20 km eh è passi mi sai di fare un viaggio veloce cazzo eh sì perché altrimenti diventa una roba ma basta fare 20 km ci vogliono 20 minuti o che ci siano i mezzi veloci lo so eh ma ti perdi tutto il bello c'è più roba da fare esplodere eh vedi guardate sempre al lato positivo più roba più roba da rompere magari sarà anche tutto più distruttibile eh anche lì dicono che forse l'ambiente sarà più interattivo più più sfasciabile magari non ci saranno i cespugli di calcestruzzo eh già sarebbe un passone no no quelli li tengono quelli non li passano guarda a me basterebbe anche un GTA 6 come il 5 basta che gli cespugli non siano di calcestruzzo gioca lo stesso non è che ha ray tracing no niente no no è importante che non ci siano più le siepi di acciaio e anche i pali della luce si esatto potrebbero chiamarlo il telegrafo GTA 5 normal bush ecco una patch che li mette a posto e lo chiamano GTA 6 a posto sai che c'era la patch per avere i personaggi nudi quelle cose che si inventano sempre quelle cazzate è una patch per avere i pali del telegrafo abbattibili sono di legno i semafori d'acciaio no? ma porca me infatti è proprio quello ho preso l'hai preso? eh prima si fa il telegrafo ho preso ah ma dici prima con l'aereo? si ecco visto che stai trasmettendo non hai raccontato l'antefatto ah già giusto la missione di prima sono appena stati persi 700.000 dollari in fumo e sono soldi no no sono soldi sai quante taglie ti devi far mettere su per ridargli tutti quei soldi? eh sì capisca siamo qui a 9000 dai a suon di 9000 ci muro un po' ok siamo a 2 km dai sono arrivato sono 350 perché anche un viaggio di 1000 km mi dice quelli un passo quindi ho già 9000 di taglia esatto ok se poi ci dovessimo calcolare anche gli interessi giocherò un anno con la taglia da 9000 no 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 ma che è che mi appena supera dove? e qual è che la tua che è la stessa mia macchina ma più veloce nettamente della mia? non lo so ma come una scheggia non so perché sono a suono eh è tutto la scia sì però stavo andando drif è che l'unico momento mi sono dimenticato di lanciare Mayday come comandante la madonna c'è il portellone portellone automatizzato ma cos'è dai è perché va riesci col con la venger quindi deve essere grosso per forza con cosa esci ecco la venger che prima o poi comprerò che non serve a niente però è quell'aereo e quell'aereo con le torrette fatto tipo a elicottero che può girarsi sì quella roba un converti plano e puoi fare un sacco di cose da lì tra l'altro non lo vedo mai nelle sessioni libere non so come mai se siete tutti dentro faccio partire la prossima ma siamo tutti dentro abbiamo infiltrati nella torre di controllo di forza un cudo e scarica la posizione dell'acula parole muori malissimo come pensano come possiamo farlo sta cosa è prendere curuma ma ci sono i carromati le curuma salta per aria non è fatta di non è fatta di siepe diamante di fatta di siete io sono volverina il mio scheletro è ricoperto di siepe nelle vene lo scudo lo scudo di capitano america è fatto di ma no ma sono rientrato vuoi capirla arrivo ha significato la porca trova una macchina sola aspetta di un aspetta venite qua è stata abbiamo passo a me mi ha fatto rientrare perché sono ripassato dal coso giallo che palla aspettiamo anch'essimo no andate andate a tu vieni con la si si sono passato sopra in volo ho fatto entrare questa missione tenendo conto che sono già su un terreno occidentato potrebbe finire prima di iniziare prima del previsto per finire nell'oceano beh dai la nota positiva è che siamo già vicini ecco siamo già rotti e quello con la macchina lì però è lo so con quella ci arriviamo proprio un mese però non avevano notato questo alettone gigantesco ma hai visto come sopra il mio alettore sembrava quello normale in realtà no no è l'alettone più grosso che ho trovato sembra un alettone di non so di un aereo o qualcosa ma infatti decolta la macchina stiamo viaggiando velocità strato velocità smodata velocità smodata siamo entrati nella zona played quanto manca tre chilometri a curva pa papa papa papapapapa ecco quando si inizieranno a tagliarci la strada ecco vabbè non ce l'ha aiutata ma che cavolo il tuo camionista ma che derrapata ma lì bruttissima indecisa riesco arrivare in fondo per dire che ci sia una curva vedo forza un culo ma siete vestiti da militari anche voi sì sì perché mi fa entrare proprio dalla porta e non lo so sono solo la sbarra aspetta un po che guardo che succede se sei visto a militare ci farà entrare per investigare da ci farà quindi tiriamo forza un culo dalla porta principale ma io salgo sulla torre passando da dietro cosa succede ma io sono ancora entrato stiamo arrivando stiamo arrivando adesso basta sparare a entrare proprio dall'entrata ma siamo fuori boh sembra di siano entra dentro tori controllo ok ma adesso non moriremo in 10 secondi per ora non ancora ci sono anche le stelle siamo un forza un culo senza le stelle godetevi questa cosa infatti non capiterà mai più mai più allora io direi di mettere la macchina la moto volante qui nessuno gli ha detto io rimetterei la macchina in una posizione che poi ci permetta di uscire sto salendo è creiamo perché siamo vestiti da militari ma non penso che solo per quello perché sennò sarebbe un po troppo una cacata e noi infatti adesso sei vestito a militare allora puoi entrare allora puoi entrare cosa fai e me è ammazzato camminandomi sopra scusa però mi sei trattato di terminato la strada adesso ho capito perché c'è il tempo perché le scale sono infinite eh quanti piani sono non lo so però io sto continuando a salire ma se tu sei continuato a salire sei arrivato due minuti prima di noi noi abbiamo appena iniziato quattro a quanto arriviamo anche piano si è ricordato siamo al terzo non è che per il non stesso come c'è un ascensore sono arrivato sono arrivato si sono ancora sono al quinto adesso queste film la joypad e non so perché ok accede la consola via il trasferimento che sarà questa quindi siamo completamente inutili perché c'è la presenza su dove la consola vediamo su quando si muove cominciamo a morire vai a cracker sta facendo download dei dati ok ma mi sa che conviene che se scendete sapete perché dici ecco si deve uccidere tutti quali che sono già qui boh noi siamo nell'ascensore eh io c'ho due tizi nella torre di controllo ma non mi stanno sparando quindi non farti sparare ho quasi finito è una tacchettina ok adesso si sono svegliati sto scendendo voi andate dobbiamo rubare l'acqua non corre occhio ce n'è uno io c'ho tutta la gente per le scale adesso ma dov'è essere l'elicottero più altra era dura eh lo vedete nella mappa è cosa blu ok cosa c'è perché la mia macchina è esplosa e li avranno sparato eh sì ma porca di quella ah non lasciatemi qui dove siete andati raga io vi dico solo ci sono i caccia che stanno prendendo il decollo qui in mezzo a noi eh eh siamo a far zancudo io sto ancora scendo le scale eh comunque sono infinite eh io mi sono incastrato vabbè adesso io ho fatto saltare per aria un jet ho tirato una granata bravo mi sembra un'ottima cosa si sa mai che no ma aspetta dai ma tirati su madonna non riesce neanche a scendere delle ma dai madonna che odio ma poi la telecamera la telecamera è cadendo dalle scale no l'acqua è un'elicottero mi sembra cioè almeno dal porto eh l'acqua no all'aereo a porto aspetta un attimo vediamo se mi ride sto prendendo l'oppresso no cacchio vado per andare con immacchia dobbiamo andare equipaggiamento anche a me non potete prendere un jet è pieno di gente di fuori no non ci posso credere dai vabbè intanto non ci sono le vite quindi vedere se c'è un jet facciamo prima ma ma magari mi fa se morite vi fa uscire da fuori no no se moriamo ci rimetti qua quindi dobbiamo andare al porto o l'aeroporto ma la curuma perché è ribaltata? eh gli hanno sparato prima ma cazzo andiamo andiamo dove siete? ragazzi io sono andato via da fuori zancudo eh ho preso un jet minchia sei lontano sto coso eeeh pazzola io non so se riesco a prendere il jet pure io eeeh che cavolo ma sacreto non ci crederete ma stardo di un poliziotto ma togliti allora mi metto qua sopra e voglio vedere gli ovesti cose cos'è la cula e con l'elicottero particolare eccolo qua sotto ok allora guarda scendo scendo uccido tutti dai metti il naso fuori dai tirati in piedi hai preso? perchè mi è scoppiato l'aeroplano? ho toccato dentro un paletto di legno no dai che figo sto l'icottero hai preso? peccato che ha solo una mitragliatrice che mitragliatrice? ah tutto qua porta la cula alla base operativa va pianissimo però mi sa che poi dovrei rinvitarci lì perchè siamo lontanissimi beh te no c'hai il jet eh no l'ho appena distrutto te l'ho detto ah ma che è l'altro con il jet sono atterrato in pista ho toccato dentro un paletto di legno ed è esploso questa è la resistenza di sti aerei sono fatti dalla fiat non ce l'ho io eh si io si cazzo hanno proprio ah ma come si sta bene ho la sporta guarda torno all'aeroporto e mi prendo un mezzo perchè altrimenti non ci arrivo più lì si ma smettila cazzo di hammer no no mi hanno battuto? mi hanno spinto giù dalla dalla scogliera ma vaffanculo dalla scogliera ma si stavo tornando in autostrada in macchina mi hanno buttato giù da adesso non ci arrivo più finora cazzo è appena comparso davanti ai miei occhi un jet un jet privato eh non il ma sei dove all'aeroporto? sono ancora all'aeroporto sto cercando di prendere un mezzo per venire da quelle parti e ho trovato un bel jet quello bello costoso nero bello figo adesso arrivo lì e mi schianto sopra la base di geppino boh andiamo colla decolla a 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 che figata si apre proprio il coso e io lo parcheggi dentro no ok e questo è presa se se sentiamo il botto da da arrivo 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 sono lì io vi consiglierei di uscire perché vedrete praticamente una tragedia in diretta poi io sono atterrato su un sentiero con il caccia figurati poi prendo un palo del telegrafo e mi fa vabbè ok ok ho superato il monte grosso arrivando sto precipitando direi a a a a a a a a a eccolo lì a a a a a a a ok allora ok ora ci sono niente a amica ma c'è un sacco da fare allora dobbiamo fare corriere morto la squadra 1 recupera i dati dell'agente dell'obitorio la squadra 2 recupera l'elicottero dell'agente oh madonna allora allora beh a quello dell'obitorio non l'avevo già fatto ah no però era nell'altro colpo ditemi quando ci siete e non lo so a me sta facendo vedere tutta la base e anche a me ci ha messo un attimino a caricare però poi entro ho appena finito ok non possiamo a me sta caricando però mi sta facendo vedere tutta la base ma dai mi fa vedere anche acquista il cannone orbitale io penso che questo sia il tuo obiettivo finale vero? eh quello però non c'avevo i soldi cosa costa? eh tanto non tanto il cannone in sé ma costa sparare costa mi sembra ho 5 700 mila dollari ogni colpo ah bene mi sembra 500 manuale 700 se lo vuoi mirato noi ci siamo eh siamo dentro la base tutti e tre avvia dobbiamo andare dobbiamo andare all'obitorio uno e l'altro andare a prendergli l'elicottero quindi come ci dividiamo? eh adesso vediamo vediamo non so se è in pubblica o se è ah no ci viene proprio ok aspetta dobbiamo dobbiamo accettare l'invito giubbotti mi raccomando ecco la solita schermata bianca che mi brucia le retine ok ecco ora per comprare tutte le munizioni dovrei spendere 102 mila dollari madonna no dai compro le granate ma com'è possibile che fai fuori tutti quei soldi? eh sparo tanto madonna uccile a pompa ditemi quando ci siete io ci sono arrivo eh solamente sto caricando un miliardo di colpi che è sempre bene avere mitra d'assalto questo si ok io ci sono vado? vai quindi la squadra 1 dati all'agente all'obitorio squadra 2 recupera recupera l'elicottero no che belli che siamo ok noi quindi siamo la squadra io con giulio e che squadra siamo noi scusa? noi siete in recupero l'elicottero ok veicolo turismo R ma direi proprio di no vado? io metto pronto io son pronto anch'io vai noi facciamo paramogli noi andiamo a prendere un elicottero ecco cosa serviva ecco cosa serviva l'ambulanza l'ambulanza eh 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 forse guardali guardali come sono belli paramedici ragazzi se riusciamo a portare a termine il colpo dell'apocalisse anche se guadagniamo 10.000 dollari a testa sarò fiero di voi no ma io non c'è da scappare col binario che se ci sparano lo perdi e a colpo inizio fino alle soldi come la raffina la fleccia ok allora intanto non vedo le nostre macchine ah no ecco la 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 davanti me la da hai disfunto d'osservazione no non me la da davanti aspetta che chiamo il meccanico mi faccio portare la kuruma c'è la mia kuruma lì c'è le tre di kuruma ah ma c'è la mia ehm si c'è anche la kuruma si si anche la mia? si quella col megalettone allora devo non sparate troppo in giro e occhio alle vite eh ok ah già giusto le vite oh cacchio vai 11 km 10 km no dai ma cos'è una presa in giro madonna eh perché c'ho la base lontana ma dai poi dopo 11 km di strada dobbiamo riuscire a non morire là esatto il problema è arrivare là dopo vabbè là ci sono il checkpoint però dica che palla là ci sono il checkpoint però ma perché ci sparano ora no 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 qua non penso il problema siamo noi che dovevamo riuscire ad arrivare senza morire in qualche modo ridicolo che meraviglia abbiamo le vite eh occhio sì ho visto adesso che abbiamo vinto in squadra una ecco vai partiamo benissimo un bel frontale ho tamponato un tir una betoniera così così si spostano ok avete notato la chicca che quando hai il navigatore attivo entri in galleria la linea del navigatore sparisce si si è la serie una piccola di dettagli ma beh si c'è c'è paolo splay che ci dice ciao raga paolo splay ciao 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 no non sai dove sei capitato no in una cosa terribile una cosa male una cosa peggio tu pensi che noi siamo professionisti eh sì uno dice se stai trasmettendo su youtube perché sei così figo che vuoi far vedere al mondo guarda come gioco bene vi insegno noi facciamo l'opposto come non fare i colpi come non giocare come morire male come arrenarsi nelle siepi eh ma però le siepi sono sono dure che spara perché spari no 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 raga non spariamo adesso che c'è un'ambulanza con un tizio che spara fuori dal finestrino niente di strano direi direi tutto normale e con la sirena accesa eh perché siamo sporchi è per quello abbiamo degli sporchi a bordo no no non sei qua era di qui la strada si eh sì sape che c'era il problema dei navigatori veri che quando ci sono queste cose non ti dice mai quelle quelle devi seguire e te ne accorgi quando invece di andare tipo a Vicenza sei finito a Campobasso si 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 e ti sale un pochino quel porco eh esatto io non so perché continuano a menzionare luoghi che in realtà non esistono non esistono mi scrive allora sono uno di voi bravissimo perfetto perfetto vai smettiti ecco ma perché non so era fermo il mobi in mezzo all'autostrada uno di traverso fermo ovviamente con una fuoristrada giganterone è qualcuno che praticamente gli stiamo sparando noi che si è incazzato e ecco ah bene c'è il pata che ha grilletto facile ecco no devi fermarsi voglio evitare le gomme eh no una stella nooo devo disseminare gli spiri eh eh che palle pata stai fermo con quella pistola eh va bene va bene va bene come vanificare la missione sparare a caso noi lo facciamo eh che poi è strano di solito te la fa fallire addirittura invece no ok noi stiamo arrivando aspetta un secondo va perché non mi ricordo dove devo andare io vedi c'è bravo è cosa se lo meritava ok ok siamo vicini al punto di osservazione il punto di osservazione è qua aspettate che l'epicottero si avvicini da dove quale chi ah qui proprio dove mi fai ah qua dietro e cosa facciamo poi scusate ah cazzo eccolo la eccolo la ah seguilo fino al punto di incontro ok oh madonna vado eh sto arrivando vediamo dov'è 500 metri andiamo a vedere sto cadavere è lì sulla sinistra per il momento ma mi chiede ma da quando c'è gta online? eh c'è dal 2013 se non sbaglio eh da quando è uscito penso 2013 ah l'online è uscito mi sembra però un anno dopo eh c'è il 2014 quello ok andiamo a recuperare l'unità di memoria ok c'è fermata da sopra sicuramente ci sta aspettando perché ha capito che siamo degli impediti ok stiamo entrando ora dice anche il gioco è diventato collaborativo su queste cose però stiamo entrando raga oh mamma ah un tesoro stiturgi subito allora equipaggiare un armo mirare un agente farà saltare la copertura ok c'è un coso dove dobbiamo andare noi siamo arrivati all'elicottero e c'è scritto che non andare all'ultimo piano ok raggiungi la cella frigorifera allora bisogna eliminare le guardie allora con la curuma non dovrebbe essere un gran problema ispezioniamo il cadavere uno fatto qui i due li abbiamo seccati ah no non è neanche lui se non ha niente nel culo ah cazzo l'hanno già presa dobbiamo andare su cazzo bisogna salire sapevo che sarebbe finita in merda allora le scale sono qua a roma siamo immortali e noi fondamentalmente siamo c'è ancora qualcuno ce n'è uno dietro non capisco dove fai molta attenzione alla sicurezza ok eccoli qua vai bisogna salire ancora però dove cazzo sto andando ah no è di qua che deve è di qua eccolo là allora dobbiamo recuperare adesso cioè dati recuperati lo dobbiamo far fuori raggiungere un fuccio legale ah bisogna rubare anche rubare bisogna rubare anche l'elicottero si adesso facciamo fuori i tizi perché i granditi iniziano a spararci su più bello ok c'è ancora uno e poi possiamo prendere l'elicottero ma patate hai capito dov'è? non di sopra eh ma se vai di sopra ti dice che ti sparano a vista ah è là dietro guardalo là dietro il fetente guardalo là e se vedi la freccetta vedi che c'è in giallo in su vuol dire che beh andiamo giù a prendere si ve la facciamo prima no no con l'hancerazio mi sa che dobbiamo salire con l'hancerazio no eh ma non c'è l'ascensore allora no no di là ci sono le scale ma dove è? se vedi qua ci sono le scale per salire ok rubiamo l'elicottero via solo che mi ha detto mi ha detto che se vado su mi sparano a vista vabbè ti sparano a vista guardate che salgo sono salito? vai eh appunto vedi che eh ma a che senso ha allora eh vedi sono su ma eh mi stanno sparando ah ma sto guidando io sono convinto se si guidano a te mi ha fatto del minimo il suo pronome saltava comunque la copertura se dovevano andare sopra perché gli elicotteri dondolano in questo modo? aggiungi la fede di medicina illegale forse dove andare a recuperare l'oro eh sì vabbè io vado su e uccido tutti va a far culo ok noi siamo quasi sopra di voi raga eh mi sa che non so se dove potete entrare perché siamo messi un po' di cacca sono morto no e non ho ancora capito se bisogna farla così sinceramente ah balordo a fianco mi costruisci eh ah no adesso stiamo avanti eccola la vediamo se riusciamo ad atterrare ah è qua eh comunque sì 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 si spetta che è sopra eh allora bisogna andare comunque sopra che cazzo eh mi sa che dovete uscire penso perché noi non possiamo atterrare da nessuna parte qua sotto l'altra squadra ah ma è lì sotto il tizio vaffanculo eh te li sto provando ad atterrare dove riesco ma che nervoso quando ci sono i muri che non ti fanno eh io ti ho una bomba eh ecco va giusto in mezzo all'incrosta eh non mi non spara attraverso bello ok noi siamo in mezzo alla strada eh il problema è che non è qua dobbiamo andare di là questo è il mafaro lì non mi piace io penso che sarà non mi piace no infatti io provo ad andare un po' dritto ti do un consiglio fai una cosa guarda se riesci a trovare un'automobile a battere il problema sarà uscire da qua avevo in mente la stessa cosa oh non c'è nessuno ma chi è che spara io no sta ok da qua riesco ok e qua non riusciamo ma hai scaricato? no 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 si ah ok si ecco posto 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 posto? boom è passato un autobus dietro di te eh lo so ma ma che se arriva la politica già è impossibile guarda che vado giù con calma perché qua è un casino voi siete dentro lì magari possiamo aiutarvi ma se riusciamo a fare una strage in teoria usciamo da qua si a occhio 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 culo sono fatti di ci sono fatti di cespugli questo primo gatto l'ho portata via dai due li ho cercati io erano qua fuori non so se dove ti uscire di qua si dalla porta principale penso guarda se c'è qualcuno di là della porta c'è uno lì io vado a sinistra ah ma non c'è nessuno a sinistra ok quanta gente mica che casino spostati spostati andiamo andiamo dai medici si può entrare no no non di qua non di qua di qua è partita una telecamera cristo siamo fuori stanno aspettando raga abbiamo un problema polizia 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 ah io prendo prendo la macchina prima che macchina che trovo sali 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 ok andiamo vai vai dobbiamo riunirci a voi eh ma noi siamo qua dietro di voi raga eh atterrate da qualche parte state andando via eh superate atterriamo da qualche parte ok ok scegliete un posto ma che siamo eh no superateci atterrate noi siamo qui sulla sul retilineo ok eh si anzi fate una cosa dato che noi abbiamo dei problemi evidenti ad atterrare con questo appare eh allora voi andate dritti dovreste trovare la collina davanti a voi ecco dove siete entrato voi c'è la collina allora io vado ad atterrare in collina perché c'è meno possibilità che ci arrivi la polizia perché abbiamo un tre stelle anche a noi è un po' spessa la faccina però ci sono i pozzini di petrolio eh ok si più o meno noi stiamo atterrando si ti vedo ok ok c'è il guardrail mi fa un culo si sto cercando di non schiantarmi è come rispondabile ecco lì eh si è che lì vedo un angolino dove potremmo scendere ma eh non è facile atterrare con l'elicottero no perché anche questo elicottero ha un po' una reattività io sto passando in mezzo ai fili speriamo bene ah ah c'abbiamo fatta è un biara mecca adesso vai bello ma perché ti ho lanciato giù ma perché si perché ti ho lanciato giù questo lo salvo eh questo è stato un momento meraviglioso mettilo su oddio oddio guarda sto andando adesso in streaming si l'ho salvato oddio 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 raga e vi informo che abbiamo dietro degli elicotteri della polizia non c'è nessuno che ha la torretta di fianco io non posso sparare non posso fare niente non so eh no non c'ho armi non mi fa fare niente mi ha sparato con razzi adesso eh abbiamo visto abbiamo elicotteri dietro eh qualcuno ci farà le scarpe no no non ho da sparare aspettate facciamo una cosa ho 20 costi del lanciarazzi tradizionale no ma vai pure al punto eh tanto hai tirato un missile staccia RL3 per ritirare un ruoto mi sa che queste sono fisse ah no no non sono fisse dai dai che sta sparendo sta sparendo no 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 ecco no aspetta che li proviamo ad abbattere ma se vai dritto in teoria li semini eh vabbè allora andiamo ma te ce l'hai il punto dove andare perché io non lo vedo più eh no eh no mi è sparito perché abbiamo la polizia ah ok quindi il problema è che io sto vagando però là sotto ho visto ho visto un segnalatore rosso quindi ho detto probabilmente l'animazione è quella quindi probabilmente dovremmo atterrare là vedi che laggiù c'è un ah si probabilmente dobbiamo atterrare lì eh allora vai dritto così eh niente ne ho diritti ma si ho un'idea volo sopra forza zancudo mi sembrava un'acqua idea che palle sta cosa che due maroni occhio no gira 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 eh niente guarda la mappa perché se non guardi la mappa eh scusate continuiamo a girare guardare le iconi di visione diciamo ok lampeggia ok ma ancora no 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 siamo ancora no no possiamo fare vai dritto così sinistra 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 no è comparso uno lì ah no ma quelli a terra no una macchina no scusi vai sinistra vabbè no una macchina vai dritto vai dritto vai dritto vai dritto vai dritto sinistra 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 per un pelo ok ok lo possiamo atterrare perché c'è un puntino rosso la sotto si non mi fa impazzire col puntino rosso che schifo poi vi spiego perché che schifo non è che vedere con gta è una cosa è una cosa quanti meno diversa dai ma che fitecchia cazzo aspetta fra 6 o 7 mesi atterriamo allora potete notare alla vostra destra il lago d'orta che si erge nella sua maestosità come se fosse un monto ho detto ma non importa fra 6 o 7 mesi a terra porca merda se è dura a terra questa cosa e ho paura di toccare le piante perché qua le piante sono fatte di ad amante sono di molibdeno tipo un po più avanti calma 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 adesso guarda la manovra si chiama mossa della cavalletta occhio che lo uccidi no perché non scendere non scendere che ti trita con l'elica dietro si vado occhio c'è fatica e la ok a che parto ragazzi ecco mi becco pure mi becco pure il bronzo super platino dovevi beccati no vi dicevo che schifo perché arrivano ancora delle foto alla vale di qualcuno che ha fatto una ricetta però ha fatto una foto dove si vede alcun piede come se io mi mettesse vicino al tavolo scatto una foto che ne so che ho cucinato mi metto il caffè latte e per terra vedi un piedazzo nudo un bel fettone non guardano le foto che fanno prima di pubblicarlo la gente non guarda cosa fa e migliori sono quelli che si vede la panza riflessa nel televisore quando fanno la foto si scusa ma ma quelli che quelle tizie che si facevano i selfie in bagno tutte truccate tutte laccatissime per detto vedevi il gabinetto sgommato cazzo era una roba veramente che proprio già moriva l'istinto proprio delle cose e poi pubblicavano si apprendeva d'accordo che cavolo quanti like che ho preso ma guarda legge che commenti sono tutt'anno detto che commenti però forse non è la cosa peggiore della serata cosa è successo ma sta caricando non sta sparaflesciando ma sta caricando è infatti va bene sono sparaflesce a me hanno pianto gli occhi tutto il giorno ancora è stata veramente una cosa dolorosa devo dire che comunque anche io ieri gli ho sofferto un attimino eh io ne avevo tre gli schermi gli ho scieppoli di ricca bruciato e neo ho sei mesi che carica ma ma perché ci metti così tempo ho rotta la televisione per sempre tutto nero hai rotto gta no abbiamo rotto un'altra volta gta hai rotto gta se c'è scritto hai rotto gta non potrei mai più complimenti hai rotto google avevate letto quella roba lì complimenti fiorenza hai rotto hai rotto google tra l'altro mia mamma si chiama fiorenza ecco perfetto tra l'altro anche la mamma di un mio amico si chiama fiorenza e sono le uniche due fiorenze loro che conosco incredibile ho sparato il primo nome che mi è venuto in mente dai ce la facciamo e no madonna brutte copie carica carica dai carica carica dai che è da l'una meno denti eh io adesso vado a dormire che domani si lavora se volete ne proviamo la prossima si è una cosa fattibile anche in tre eh non ho idea eh perché se no ancora la faccio però poi dopo vado a dormire perché se non sono in pubblica bisogna essere per forza in quattro prendere gente esterna l'abbiamo già visto l'altro si è finita di caricare prima di un quarto d'ora eh è anche quindi adesso uno che guarda che accende youtube vede fondamentalmente quattro pirla che parlano sì uno schermo nero è un podcast praticamente sì esatto è il nuovo nostro modo di fare radio la nuova noi parliamo ma non vedete niente ma c'è uno schermo quindi in realtà vedete che non vedete niente esatto cioè non è che non è neanche non è neanche bianco quindi non no esatto non potete neanche gioire però sto apprezzando il mio televisore da morire in questo momento perché ho capito cosa è il QLED è nero e nero eh sì è come l'OLED ma ma non dura come ogni yogurt non ha col problema della scadenza un po' ravvicinato cazzo pazzesco il nero sto notando adesso che è proprio nero e sembra spento guarda che ho detto magari si è spento il televisore i televisori QLED sono si spaccano abbastanza eh c'è un più quello della Samsung eh sì il Q60 impressionante sì abbastanza impressionante nero veramente profondo cioè si mischia con la cornice dopo questa analisi tecnica alla Galeazzi ah 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 costottiamo che il gioco ancora non sta andando avanti infatti ci stiamo inventando delle cose per riempire il buco di trasmissione eh ho bisogno di fare qualcosa esatto 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 comincia ad essere un po' preoccupante questo caricamento no no ma anche l'altra volta ci ha messo un'eternità avete capito che avete capito perché PS5 e la nuova Xbox parlano di come dire stanno puntando su gli SSD secondo me non per i caricamenti come dicono ah per non far vedere quando carichiamo da un livello all'altro gli asset eccetera no semplicemente per evitare queste cose qua eh sì sì esatto a parte che qua penso sia un problema di online non penso sia poi il gioco ma penso anch'io eh penso anch'io probabilmente l'unico server dove stavano giocando noi è appena esploso per davvero sì è stato assaltato da qualcuno esatto sono entrati veramente dei criminali hanno cominciato a sparare dentro i server di Rockstar è Robby sicuramente è stato Robby non so perché ma secondo me è stato Robby no bisognerebbe girare una scenetta da abbinare a questo video e poco prima che tutto salti per vedere qualcuno di noi deve fare il piccolo tecnico della Rockstar con la maglietta Rockstar che rovescia sul server un caffè che rovesce all'altro giorno i server della Epic come quello che è successo l'altro giorno ai server della Epic che sono implosi perché hanno gratis GT5 gratis è esatto cioè pensa te un gioco del 2013 fa ancora crashare i server adesso quando lo regalano che comprarlo che comprarlo costa 10 euro adesso tra l'altro sì quindi vuol dire essere veramente scusate eh dei barboni ma poi per carità allora sì ma infatti ma perché ci mettono così tanto fare il gta 6 poi ma scusami anche i soldi ormai ne hanno fatti assumete più gente su sono già in 500 ha detto che forse ogni giovedì da epic regala un gioco no più o meno dovrebbero regalare the witcher 3 forse perfetto io l'ho giocato tutto su play e spettacolare l'ho fatto tutto anche la guida ufficiale arrivato a metà ma poi non avevo continuato spettacolare veramente non mi piacevano i controlli però mi è piaciuto davvero tanto da come storia bellissima come storie perché ce n'è talmente tante fatte bene poi infatti il primo video del canale c'ha 50 mila visualizzazioni perché spiegava un po di trucchi e un po di consigli così infatti non me l'aspettavo che tutto quello quel seguito continuano a farmi adesso le domande colpo di scena ho appena letto una cosa incredibile i concerti ripartono il 15 giugno ma con alcune regole che non ho letto quindi attenzione perché si potrebbe recuperare qualcosa st'estate vuoi dire che forse si suona il 15 giugno attenzione andrew mi raccomando alza le antenne e senti la cosa se partono il 15 giugno io immagino che per agosto luglio dai settembre si trasla in là tutte le feste alla birra fatte la settembre ottobre invece di fare gli anelli di totano che sono molti estivi nelle cucine si fa lo stinco e birra che ne so io l'impressione che sia morto gioco comunque no no si ripiglia si ripiglia io direi di lanciare una campagna patreon sostenete noi che giochiamo mandateci cinque euro e noi andremo avanti a giocare così male quindi ma non lo facciamo apposta cioè noi giochiamo proprio male perché uno dice bene non sta non avete i soldi per comprare che ne so la sei l'oppressor quella roba lì no in realtà quello il problema minore che poi si sa più usata e come comprarsi un pianoforte stanway e non saper suonare sparamardino c'è nel senso io l'impressione che non parto più no parte parca finché fa così carica c'è speranza è l'altro giorno era stato un sacco e così abbronzati con luce bianca ti manano così tutto sto tempo a ieri c'era proprio tutto sto tempo la luce bianca ecco vai su un attimo se avete portato delle foto e ho intuito che si era quello ti immagina che ero nel buio totale del salotto a certo punto il mio televisore 90.000 pollici si è illuminato a tuono è stata come vedere praticamente una supernova esplodere fuori dalla finestra sono stato accecato mi piacevano gli occhi è stato un momento dolorosissimo è un solo della madonna c'era fa convintissimo della faccia è solo che non so se fai ripartire se salvo è quello il fatto è quello il problema anche questa missione è stata una merda che non la rifarei volentieri la sera è stato un po disastro abbiamo fatto di peggio va col 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 no è andata molto peggio dai che c'è gente che lavora domani rock star si spingono i server a mettere la musicata come l'ascensore o quali quando rispondi al telefono che si mettono la no se prima il tasto ps niente va la ps ma non dà segni di vita mi ricordo un testo della ragazza di panema aspetta 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 devi mettere sta roba qua guarda mi immagino uno che si collega adesso allo siamo in attesa di trasmettere come siamo molesti dovremmo fare degli streaming solo così senza gioco che tanto va bene lo stesso tanto facciamo dei podcast creiamo un canale facciamo un podcast a caso adesso provo a fare un esperimento mi sono appena connesso al tuo canale quindi sto vedendo il canale ora di qualcosa che io posso vedere sul mio telefono da qua davanti cosa vuoi che dica a parte che tu mi vedi in ritardo di 30 secondi ah è il ritardo davvero di 30 secondi si ma porca ecco mi sento me sto risentendo sui tratti veramente dei criminali ma io vorrei far ricordare questo club ibiza c'è grv man che ci scrive porca dai che palle vabbè dai che bello porca poi scrive scrive cerume sarà un bot è uno che vuole bot che due palle porca porca cerume fognatura aggiunge leggo uno che scrive adesso con le vascherine vi tocca imparare a fare gli occhi a culo di gallina perché parte della musica faccio citazione porca ho capito forse lui ho capito forse lui dice delle parole a caso noi dobbiamo capire cosa c'è in comune tra quelle parole ah è tipo il come si chiama parole porca migliotta poi fognatura mi scappa la caca non lo so la porca cerume e fognatura cos'è che può andare in tipo non so c'è cesso ci sta no porca cerume e fognatura eh certo che ragazzi a 0049 questi all'edito ci sono ah aggiunto il tappo tappo cosa vuol dire non lo so porca cerume fognatura tappo ecco se va avanti così me lo devo mettere il tappo al culo perché devo andare al bagno quindi oggettivamente mi scapperebbe la cacca sai però e non lo senti perché ha il cerume giustamente può essere quello il senso della di tutta la faccenda oh cristo santo è uno dei video più molesti senza gioco tra l'altro sì esatto esatto a 14 che palle sì forse adesso c'è un po' troppo stiamo aspettando io penso che questa partita sia stata un disastro ma non riuscite a fare delle cose però non riesce più a trovare fatte male non riesce più a trovare il server eh sarà esploso cosa vogliamo fare? eh boh non so se se chiudessimo tutti e tre GTI ci ricollegassimo e riprovassimo a vedere come è la storia eh vado a vedere se ha salvato vado subito a vedere la se ha salvato la il colpo riavviamo tutti e tre ma è giusto da capire perché appare ad essere già anche lui una cazzo aspetta allora provate non so se riavviate voi e io no dovrebbe poi salvarmelo in teoria dai proviamo proviamo a uscire perché a un certo punto proviamo a uscire noi ok chiusa l'applicazione dai chiudi chiudi se ne so no dai tanto dobbiamo increstare qua fino alle 2 cazzo ma possiamo anche andare avanti così canale tutto nero eh podcast a cazzo gente che parla a cazzo ok faccio via di nuovo comunque giusto per la cronaca jera vuomero io volevo dirvelo ahah spero infatti mi siete chiedenti quale parole aggiungere dopo tappo fognatura cerume è stato un momento molto bello ma l'hai creato apposto o è il tuo no no era un vecchio è legato a una vecchissima mail di lavoro che non uso più ah ok ogni tanto mi piace creare scompiglio o forse no attenzione ti stai andando a GTA sono molto arrabbiato la Vale ha mangiato tutti i fonzi no no avevo un sacchetto da quanti grammi? aspetta era un sacchetto da 700 grammi madonna grosso no non è vero un pacchetto a 100 grammi io ne avevo mangiati 80 tipo questo per so 700 sai allora le ha finite diciamo 700 grammi di fonzi ci metterei la firma beh basta comprare 7 pacchetti a 100 grammi eh beh sì domani vado a Vestelunga compro 10 pacchetti da 100 grammi da 100 grammi mi metti in una ciotola e faccio una specie di survival in diretta su Instagram mangia 100 survival fonzi eh esatto mangia un chilo di fonzi in diretta e poi per un'ora devi rimanere connesso in diretta senza dover andare in bagno mamma mia mamma mia potrebbe essere difficile un chilo di fonzi probabilmente generano un'onda d'urto nell'intestino istantanea un chilo di fonzi e poi mezzo litro di coca cola è un clovione crea sì esatto un buco nero si forma viene risucchiato dall'interno altro che meteorifica meteorismo 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 meteoritismo proprio meteoritismo esatto a voi mi sta facendo rientrare ma noi stiamo rientrando in gestia online stiamo rientrando ci sono sconti su delle auto sulla Progen Emerus o Emerus e la Overflood Entity XXR neanche soldi per comprami le calze io overflood Entity XXR io direi che se entrate in una pubblica vengo e facciamo un po' di delirio ah ti dici che entriamo solo a rompere i coglioni agli altri ma sì non ha senso di farlo andare compatti perché dobbiamo permettere ma prima dovete farmi andare al bagno due secondi ok mi sembra un'ottima idea io sono rientrato e sono in una pubblica da 30 persone allora però non vedo voi no io sono ancora lì col cosino che gira no io sono entrato però non so se devo venire dove siete voi perché siete insieme perché se se è da 30 se è da 30 è difficile che che riesco a entrare nella mostra è già piena no ok allora facciamo una roba io provo se mi provasse a unire la tua intendo tuo geppino eh ma io sono ancora lì che è ancora bloccato però se provo a entrare vedo cosa succede anche io mi sto unendo alla tua sì voglio vedere come succede vediamo cosa succede magari noi riusciamo a entrare nella base ed è bloccato per te allora a quel punto tu ti puoi collegare alla nostra grazie ho appena visto su una macchina sportiva che c'è uno sponsor che si chiama che palle sì 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 che palle che palle non so perché l'hanno messo se sanno cosa voglia dire boh io penso di sì io penso di sì raggedia avete prenotato la ps5 no non è ancora lo ti puoi già no no non l'hanno ancora svelata mi ha fatto vedere il controllo ma per me sono ancora un po' indietro allora adesso mi unisco alla partita di tra l'altro strano che la vedete ancora la partita la vediamo e noi stiamo entrando nella partita qui dice caricamento oddio però non è che non lo vedo troppo reattivo anche io sto ancora caricando è fermo al 90 da mattini si cosa è che ti dice ma io vedo pubblicità delle macchine non è caricamento proprio detto stai un attimo ragazzi devo andare veramente in barbaccia vai 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 tanto carica che due coglioni e coglioni niente non entra nella partita tua paura che dai chiudo e noia fa e allora anch'io chiudo l'applicazione di nuovo chiudo e rientro dai tutto al più la si rifa che palle però ma partecipo alla sessione di qualcuno cosa entro normalmente o partecipo alla sessione di qualcuno no io direi entriamo tutti normalmente così ci fa andare su qualche vari server poi il primo che riesce ad essere in una sessione vuota noi ci attacchiamo alla sua e proviamo a vedere a che punto siamo con i colpi se è il caso di fare ancora una e poi andiamo a nanna oppure se lasciar perdere perché ci mette un mese oh santo cielo chi è che sto grattando il formaggio sul microfono non lo so perché non saprei perché sto parlando ma cos'è sta cosa succede niente ma io vi saluto ragazzi ma donna che domani devo ancora passare ancora dal dentista sta grandinando sta piovendo qua ma vengono giù delle secchiate ah si no qua sta venendo giù dei secchioni vediamo vediamo le previsioni per domani in zona qui clima perfetto cosa è pioggia clamorosa no no sole 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 qua sta piovendo però solissimo non sono cavallette vediamo vediamo qua rona va bene anche qui va bene tutta la settimana bello sabato un po' di piogge riddina verso sera verso sera domenica bello sembra che farà bello per un bel po' attenzione pata ma sei tornato no no volevo salutarlo prima di era una cosa lunga mi sa che non era roba piccola ok allora io sono in una sessione da 25 e la gente non ha livelli altissimissimi più alto è un 180 ok sono dentro in 27 persone allora per ora è meglio la mia allora aspetta che però vado direttamente a vedere al coso come sono messo si intanto io cerco allora una missione c'è una sessione vuota così poi magari nel caso ne facciamo ancora una eh ma per me viene un po' tardi eh si no ma è peccato io non mi metto stasera a sparare alla gente volevo provare a recuperare qualche cassa dopo la ah ok allora qui c'è già una taglia da prendere qui però voglio andare al quindi uno è già foderato d'oro vado alla base operativa ma perché la kuruma che palle non posso andare con la kuruma non arrivo più ah però posso fare così mi metto come motorcycle club mando il veicolo via presidente oppressor e via poi mi tolgo perché se no mi fanno fuori oppressor ok allora però sto andando tutto nella parte opposta benissimo bene così adesso otto ore per arrivare alla base operativa ah che palle come ti fai? ho sentito che hai stato eh beh come ho detto più che lo conosco più che lo conosco più che lo conosco più che lo conosco sai che ti ho detto prima non per toccare quella cosa con una margola di 10-foot Paul? beh per essere sincero non potrei toccare questa anche è un'altra sono finita in una da 29 persone guarda qui eh sono finita in una da 29 persone guarda qui eh vediamo quante scale che c'è a sto posto madonna vediamo un po' più semplice neanche ci dovessero stare centinaia di persone qua dentro magari in quattro devi entrarci vediamo oh le aspetta avevamo fatto quella del eh aspetta cosa è che mi hanno fatto abbiamo portato l'elicottero ah una squadra è andata a prendere l'elicottero l'altra a prendere sì l'ha tenuta l'ha tenuta l'ha tenuta l'ha tenuta sì sì meno male meno male ha tenuta l'ha tenuta meno male meno male adesso c'è intercettazione segnali usa le deluxo per raggiungere i veicoli bersaglio e viola nella sicurezza per recuperare i dati niente a me non carica più un cavolazzo adesso stacco io niente mi arrendo anche io raga madonna meno male dai la tenuta andremo poi avanti eccomi niente ancora vedo qua la tenuta è comunque fatta la tenuta sì sì la tenuta bene raga io vi saluto sì vado anche io molto tardi e poi soprattutto a sciabada e poi niente vabbè la tenuta comunque dai un po' di roba l'abbiamo fatta va bene dai fatemi sapere quando ci siete sì per proseguire col popocalisse domani già vi dico che non ci sono ok allora no sono dopo domani le due sono in piedi no direi direi che non si può fare beh tra tutti gli altri se siamo in quattro proviamo e vediamo vediamo un po' dai va bene salvo vabbè bella via dai buonanotte buonanotte ciao 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 8000 porte tutte chiuse sto posto vabbè a cosa serve non lo so cioè è inutile sto posto allora mi lascio scaricare una cosa vabbè esci 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 no ragazzi vi saluto ciao buonanotte ciao buonanotte